Stavolta dipenderà solo ed esclusivamente dall'Empoli. Inizia così il gran finale della Serie B. A tre giornate dal termine della cattetteria sono nove punti in palio, sette di vantaggio per gli azzurri sulla Salernitana, la prima inseguitrice. La matematica dice che quella delle ore 14 al Castellani contro il Cosenza è la partita che potrebbe consegnare agli uomini di Dionisi la Serie A senza dover stare a guardare cosa succede sugli altri campi. Di fronte però c'è una squadra che corre per salvarsi e che non ha intenzione di regalare punti agli avversari. Semplicemente non può permetterselo. Tra l'altro una vittoria empolese aiuterebbe anche il Pisa impegnato all'arena Garibaldi contro il Venezia. Confitta dei calabresi, quarti ultimi in classifica, permetterebbe infatti ai nerazzurri di mettere al sicuro la salvezza. Noi adesso dobbiamo pensare alla nostra di partita, tutte e tre quelle che mancano, a cominciare da quella con il Venezia. È una partita non semplice perché ripeto il Venezia è una squadra che sta facendo molto bene, però noi possiamo dire la nostra anche martedì pomeriggio. Il Cosenza di fatto al momento sarebbe l'ultima squadra a retrocedere e per giunta senza passare dai playoff, dal momento che il distacco dalla quintultima è maggiore dei quattro punti necessari da regolamento affinché ci sia lo spareggio. La quintultima piazza tra l'altro è occupata proprio da quell'Ascoli che ha costretto l'Empoli durante l'ultimo turno a fermarsi con una sconfitta dopo ben 28 risultati utili consecutivi. Agli azzurri la missione è di dimostrare che si è trattato solo di un incidente di percorso.